Eccoci come state ben ritrovati, un saluto a tutti, vi ricordo come sempre di commentare numerosi, lasciare un bel like, iscrivetevi da questa parte e attivate la campanella numerosissimi. In bocca al lupo a Florenzi per il suo recupero, è stato operato oggi al Galeazzi a Milano e dunque in bocca al lupo per una, si dice sempre pronta, guarigione, ci vorranno dei mesi, tanti mesi, davvero in bocca al lupo. Nel frattempo ha parlato Zlatan Ibrahimovic e dice ci vuole pazienza, abbiamo un nuovo allenatore, ma si vedono già le idee di gioco, che quella del nuovo allenatore però non diventi un alibi perché il Milan deve puntare sempre a vincere, non diventi una scusa della abbiamo cambiato allenatore, è normale che il primo anno, no, bisogna stare bene dritti e andare verso l'obiettivo. Capitolo calciomercato, mentre Yusuf Ufanapare abbia iniziato a seguire il Milan sui social, è così, a meno che poi toglie, non lo so, vediamo. Al di là di questa curiosità c'è un avvicinamento, l'avevamo raccontato già nel video precedente, due notizie. Una è che il Newcastle va su Guay, difensore centrale del Crystal Palace e questo potrebbe essere o una mossa per cercare di far abbassare le richieste economiche del Milan per ciao, oppure una mossa concreta che farebbe saltare l'operazione di gestione del Milan del giocatore tedesco al club inglese, valutato 40 milioni di euro. Sinceramente, dovesse restare il Milan sarebbe a posto così in difesa e io ne sarei anche contento perché 40 milioni non le incasso io e poi vanno a finire la maggior parte nel bilancio. Vediamo che cosa succede. Dopodiché vi riporto una richiesta di informazioni del Bologna, un sondaggio per Gabbia. Il Bologna vuole Gabbia, il Milan ha detto soltanto per 14 milioni di euro da quello che risulta appunto l'ambiente bolognese. Gabbia che sarebbe importante anche per questo in liste, oltre che perché è un buon giolly, un buonissimo giolly che nel Milan secondo me ci può stare. Non credo che l'affare si farà, però intanto non ho chiesto informazioni. Ditemi che ne pensate, le parole di Ibra, di Fofanà, di discorso ciao lo terresto oppure no, io sì, nel caso tranquillamente, e su Gabbia siamo d'accordo, deve restare. Commentate, lasciate un like, iscrivetevi mi raccomando e guardate il podcast di Van Basten che trovate nel link in descrizione. Un abbraccio e buon weekend, ciao!